... Difendere la propria cultura in Italia sta diventando peccato mortale. Intimiditi dall'impropria parola razzista, tutti tacciono come conigli. Gli albanesi, i sudanesi, i bengalesi, i tunisini, i algerini, i pakistani, i nigeriani, che con tanto fervore contribuiscono al commercio della droga e della prostituzione a quanto pare non proibita dal Corano, vivaccano nelle nostre storiche strade col pretesto di vendere la merce. Guai se un vigile urbano gli si avvicina e azzarda. Signor figlio di Allah, eccellenza, le dispiacerebbe spostarsi un cappellino e lasciare passare la gente? Non se lo mangiano vivo! Razzista! Razzista! Da noi non c'è posto per i muezzin, per i minaretti e i falsi astemi, per il fottuto C'ador e per il ancor più fottuto Burka. E se ci fosse io, non glielo darei. Perché qui varrebbe a buttar via Dante, Alighieri, Leonardo, Michelangelo, Raffaello. Il rinascimento, il risorgimento e la libertà che abbiamo bene o male conquistato, la democrazia che abbiamo bene o male instaurato, il benessere che abbiamo indubbiamente raggiunto. E qui varrebbe a regalargli la nostra patria, l'Italia, insomma. E io l'Italia non gliela regalo, no. Io sono italiana, la mia lingua è l'italiano. Quando ascolto l'inno di Mameli, io mi commuovo a udire quel fratelli d'Italia, l'Italia sedesta. Parapà, parapà, pararapapapapà. Mi viene il nodo alla gola. Non mi accorgo nemmeno che come inno è abbastanza bruttino e che lo suonano quasi sempre male. Del resto, in nodo alla gola, mi viene anche a guardare la bandiera bianca, rossa e verde che sventola. Siamo morti per quel tricolore, Cristo! Naturalmente, la mia patria, la mia Italia, non è l'Italia di oggi. L'Italia godereccia, furbetta, volgare, degli italiani che pensano solo ad andare in pensione prima dei 50 anni e che si appassionano solo per le vacanze all'estero e le partite di calcio. L'Italia ancora mussolinesca dei fascisti neri e rossi, che ti inducono a ricordare la terribile battuta di Ennio Flaiano. In Italia i fascisti si dividono in due categorie, i fascisti e gli antifascisti. No, no, la mia Italia è un'Italia ideale, quella che io sognavo da ragazzina. Un'Italia seria, intelligente, dignitosa e coraggiosa. Un'Italia meritevole di rispetto. Quello che avevo da dire l'ho detto. La rabbia e l'orgoglio me l'hanno ordinato. La coscienza pulita me l'ha consentito. Ma adesso voglio ritornare a lavorare. Non voglio essere disturbata. Punto. E basta. Grazie.